Nascondeva dosi di cocaina ed eroina in un calzino, già suddivise in dosi e pronte per essere cedute, ma è stato beccato dai carabinieri e per questo è finito in manette un 27enne. L'uomo da qualche giorno era finito nel mirino dei militari, che proprio nel corso di servizi di osservazione nel centro storico di Arezzo lo avevano notato muoversi ai piedi nei vari luoghi frequentati da tossicodipendenti. I militari hanno così deciso di perquisirlo e all'interno della tasca del giubbotto gli hanno trovato 40 dosi di stupefacente tra cocaina ed eroina, a volte in un calzino da uomo. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del 27enne. Qui sono stati sequestrati strumenti utilizzati per il confezionamento delle singole dosi, tre telefoni cellulari e due laptop, dispositivi elettronici su cui adesso sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Il presunto pusher si trova attualmente in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.